Non avevo mai contatto con la buona comida, la buona comida, fino a che veniva in Italia. Non avevo un concetto o una notizia di ciò che era un cibo incredibile e ero corrompito da questi standard, questi incredibili standard per la cucina e l'ospitalità che, ultimamente, ero nato in questo paese. Siamo stati veramente felici di incontrare Jim. Ha coinvolto i ragazzi veramente, l'abbiamo sentiti nel vostro senso di feeling, l'abbiamo sentiti emozionati, l'abbiamo sentiti coinvolti e questo ci ha fatto enormemente piacere. Spero di avere occasioni di conoscere l'arte e la cultura del cibo e della cucina e di poter un giorno diventare un esperto, diciamo, di questo settore. American Food 2.0 è un testamento di quanto la nostra nazione ha venuto con riguardo a dove i ingredienti come from, come produce food, e anche una discussione di cui creano il cibo e come si è trattato. Per me, 2.0 in our participation in Expo 2015 e questo sistema è un esempio di quanto l'America ha venuto come come dove come a leader in making food, cooking food, preparare food e, most importantly, in hospitality. Il diplomatico con le chef che sono parto e sono orgoglioso di essere parto è molto importante come un chef può cambiare e rendere il mondo un migliore per lo che noi amiamo a fare, per fare la creazione e la creazione dell'hospitalità. Grazie a tutti.